Ed ora andiamo subito in Prefettura con le novità uscite dalla riunione del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico. Ci aggiorna Caterina Cannavà. Buonasera Caterina. Buonasera, è stata una lunghissima giornata qui in Prefettura. Ce lo testimonierà tra poco il Prefetto Palomba perché si è parlato di ordine pubblico ma si è parlato anche di scuola e di mezzi pubblici perché si vogliono fare degli interventi chirurgici in modo da poter evitare il lockdown generalizzato. Ed è per questo dunque che poco fa sono state annunciate da parte della Regione le prime misure riguardano in particolare le classi dalla seconda alla quinta superiore per le quali dal lunedì prossimo, 26 ottobre, scatta la didattica a distanza almeno per il 50% degli studenti, sono in tutto 135 mila quindi secondo i calcoli circa 75 mila dovrebbero quindi andare a lavorare scusate andare a studiare direttamente a scuola ma gli altri 75 mila appunto non dovrebbero in qualche modo pesare sui mezzi pubblici. E' stata appunto questa una delle misure prese oggi. Signor Prefetto, la vostra preoccupazione qual è stata? La preoccupazione è di prevenire questa diffusione ovviamente del coronavirus come giustamente ha precisato lei, tra pochi minuti il Presidente firmerà l'ordinanza che stabilisce queste misure per quanto riguarda la scuola che alleggeriscono molto, uno dei temi delicati era quello dell'assembramento sul trasporto pubblico senza incidere ovviamente su quelle che sono le classi inferiori che hanno una necessità ovviamente di una presenza. quindi questa è una misura che è stata condivisa nel pomeriggio di oggi come diceva lei in un incontro con tutti i sindaci capoluoghi di provincia con i Presidenti delle province e con i prefetti della Regione. Ecco dobbiamo ancora dire che saranno chiusi i centri commerciali nel fine settimana in analogia con quanto succede in Lombardia mentre la Liguria ha detto che appunto anche nell'ambito della scuola prenderà le stesse misure. Ma veniamo allora alle zone di Torino invece che sono più a rischio assembramento. Ne sono state decise per il momento tre Piazza Santa Giulia via Matteo Pescatore quindi vicino a Piazza Vittorio e Piazza Montanaro che già in questo fine settimana ha detto la Sindaca potranno essere chiuse. Signor Prefetto perché? Perché noi siamo partiti dalla definizione di alcuni criteri gli assembramenti, i controlli, le sanzioni che sono state fatte in quest'ultimo periodo periodo estivo e quindi sono state individuate proprio per dare efficacia alla misura perché è necessario anche alcuni controlli sono state individuate per il momento queste tre zone. Lì qui verranno limitati gli accessi solo agli utenti ovviamente degli esercizi commerciali e ai residenti. Ecco, si deciderà però tutto domani. La Sindaca ha precisato che ci saranno degli incontri anche con la Ministra dell'Interno, la Morgese, dalla Prefettura di Torino ringraziando il signor Prefetto. Vi restituiamo la linea.